amici di on tv buonasera e benvenuti a una nuova puntata di che calcio vuoi allora altro 3 a 0 incassato dalla Ternana qualche reazione scomposta qua e là una squadra che oggettivamente ha lasciato molto a desiderare nella partita del 26 oggi che è 27, 7 ieri quindi stiamo registrando di 27 e niente adesso analizzeremo un po' tutto quello che c'è da analizzare con Gigi Manini in versione cacatua stasera bello mi piace questa pettinatura pappagallesca Gianni Giardinieri buonasera poi vi presento il mio amico collega nonché allenatore grande conoscente di calcio Alessandro Mari ben trovato grazie di essere venuto a trovarci allora qui di tradizione l'editoriale lo fa Gigi Manini a me vale di poter dire una cosa adesso dopo commenti la partita qui non si tratta più di stabilire se il giocattolo è rotto o no il giocattolo è chiaramente rotto si tratta di capire adesso come rimettere insieme i pezzi detto questo sinceramente oggi ho incontrato almeno 30 persone che mi hanno detto che succede ma la risposta è che io non lo so forse qualcun altro lo sa meglio di me ma non è semplice saperlo già sapere qual è il problema sarebbe un bel passo avanti più che altro essere consapevole che c'è un problema eh no il problema c'è però capire qual è il problema di questa Ternana non è semplice ma insomma tornando alla partita io ho visto un primo tempo discreto della Ternana abbiamo costruito poco comunque concluso poco però non avevamo sofferto particolarmente un Frosinone che indubbiamente in questo momento c'è superiore poi però è venuto questo splendido gol del Frosinone eh gran gol di Mulattieri ma bella anche l'azione però eh Martella anche in quell'occasione si fa cogliere un attimino o comunque sbaglia il movimento perché non tiene la linea quindi tiene in gioco Zigne poi mi avete fatto notare il tuo amico Mari mi ha fatto notare c'ha ragione che Palumbo si perde Roten cioè si perde non lo va a contrastare quello eh forse il contrasto gli avrebbe dato sicuramente anzi forse direi sicuramente gli avrebbe dato fastidio nel momento del cross invece ha potuto crossare indisturbato e Mulattieri è stato bravissimo insomma Mulattieri è un gran giocatore bel giocatore sì è stato bravo Angelozzi come al solito insomma no? loro sono bravi dove noi difettiamo e Mulattieri è stato bravissimo anticipare Sorensen che in quell'occasione secondo me è incolpevole perché questo ragazzo è stato veramente bravo poi l'ha infilata sotto la traversa poi nella ripresa ha sfondato una porta sì bravissimo questo bisogna bisogna riconoscere anche i meriti degli avversari e dire che quello è un gol di una splendida fattura nella ripresa la Ternana ci ha provato un paio di minuti forse poi è stata travolta clamorosamente come al solito come insomma nelle ultime partite potremmo prenderne anche 5 5-6 mi pare che la stessa arbitro molto brava ci ha risparmiato forse anche un dubbio rigore no? quando Gianneria ha dato una spesa non era netto ma forse lì ha pensato che non era il caso di sparare sulla cruce rossa ma in generale ho visto una squadra imbarazzante in certe fasi anche atleticamente ma forse anche come convinzione come grinta i nostri non protestano se avete visto c'è stata quella punizione calciata da Partipilo che insomma era una bella occasione fra l'altro ha sfiorato il palo era un fallonetto forse non hanno protestato in 15 o meno di anche quelli della panchina noi non protestiamo mai siamo una squadra in questo momento senza nerbo senza grigio non facciamo neanche un fallo eclatante ogni tanto no ma quello vabbè lasciamo stare io guardo anche i nostri aspetti comunque dopo gli altri due cose senza che li vado ad analizzare tanto penso che Gianni abbia visto abbia fatto qualcosa insomma delle lacune clamorose compreso stavolta purtroppo Mandovani che invece di tergiversare entra scivolata e Mulattieri che ripeto è molto bravo gli va via gli prende 20 metri poi rimediato poi comunque in era eravamo 7 contro 3 ma lasciamo stare terzo gollo va bene detto tutto questo in questo momento secondo me la Ternana era una delle squadre più vulnerabili non voglio dire scherze perché abbiamo fatto un cambiamento eravamo stati anche primi e la squadra aveva giocato grandi partite in questo momento è una delle squadre più vulnerabili del campionato purtroppo le altre vincono con noi facilmente e mi sembra che la situazione stia anche peggiorando questa è la cosa perché noi di fatto non facciamo un gol con l'arrivo con l'arrivo di Andriazzoli a Venezia abbiamo perso immeritatamente abbiamo vinto una partita con il Cagliari con uno squadrone soffrendo a Bolzano al primo tempo avevamo dominato noi una ripresa un po' così adesso mi sembra che ogni partita andiamo peggio Frosinone mi sembra che a un certo punto si sia quasi vergognato di infiorire sull'Aternel quasi ha portato rispetto ad un avversario in netta difficoltà adesso capire qual è il problema io non lo so certo aver cambiato l'allenatore prima di tre partite di seguito e non aver permesso a Andriazzoli di poter lavorare con un attimino di calma è stato un errore dal punto di vista della scelta calcistica grave e lì l'unica speranza era fare quello che ha fatto Girardini a Genova vincere subito due o tre partite e andare sull'area dell'Indusione non è accaduto cerimediare Gianni ma questa è una di quelle puntate su cui come dire possiamo fare la versione paramicos e ufficiale oggi è complicato ecco allora facciamo una premessa facciamo ufficiale facciamo ufficiale ci rimaniamo sull'ufficial questa è una squadra che come tutte le altre della serie B sta passando una fase down di quelle proprio tremende perché abbiamo fatto non solo pochissimi punti ma non segniamo più prendiamo tantissimi gol la squadra sembra liquefarsi al primo momento di difficoltà ci sono sicuramente tantissime cose da migliorare per cui elencarle tutte sarebbe anche quasi superfluo perché vorrebbe fuori una lista incredibile detto questo però è anche una squadra che qualche valore ce l'ha perché altrimenti non avrebbe fatto le cinque vittorie di seguito e via discorrendo il punto è che sempre rimanendo nell'officiale diciamo così probabilmente c'è stato un errore di valutazione grande grosso feroce nell'esonero di mister lucarelli non soltanto nella tempistica come diceva Gigi ma anche nelle modalità perché poi la forma è sostanza e allora nel momento in cui tu tronchi il passato in maniera brutale tagli non soltanto i punti con quello che è stato il tuo allenatore che ti ha portato dei risultati incredibili ma tagli anche i punti con una abbondante fetta della tifoseria rosso-verde e quei punti non li ricostruisci più per cui da quel momento in poi forse un po' anche prima ma da quel momento in poi da quella famosa sera di Pisa si è creato un solco feroce tra la società che si sta isolando sempre di più e tutto il resto quindi ambiente tifosi e anche in parte mezzi di comunicazione questo che cosa sta comportando sta comportando che ad ogni errore che tu fai che sia di Andrea Zoli che sia di un calciatore che sia di un dirigente questo solco si apre ancora di più allora prima tu dicevi Enrico il giocattolo è rotto posto che è rotto qui il problema è che noi dobbiamo giocare un girone di ritorno cioè non è che siamo arrivati a tre partite dalla fine quattro partite dalla fine sei salvo no? sei in una situazione che siamo in una situazione in cui dobbiamo giocare altre 19 partite per cui il rischio grosso diciamo di mandare bip a bip la stagione è forte se cominciamo a prendere come dire le parti di una fazione o di una parte diciamo di fazione quindi chi è Andrea Zoliano chi è per una situazione che per l'altra rischiamo secondo me di incartarci in una maniera assurda e di fare una seconda parte della stagione da incubo quindi rimaniamo sull'official perché poi dopo parleremo anche di altre cose però poi andiamo anche a vedere alcuni fatti che sono incontrovertibili te ne dirò alcuni che ci devono far riflettere perché secondo me la cosa migliore da fare in questa fase è quella di aprire gli occhi e guardare la realtà anche come dire analizzando alcuni numeri che sono decisivi e sui quali poi bisogna come dire ricostruire un qualcosa che ci riavvicini tutti a questa squadra perché oggi è facile sparare poi la finisco qua è facile sparare sulla croce rossa ma io non ho nessuna voglia di farlo perché so che se ci sparo sopra mi daglio i cabasisi come dice Gigi Alessandro tu che sei stato allenatore quando guardi queste prestazioni pensi più a una questione fisica atletica tattica o di spogliatoio quindi psicologica diciamo allora guardando guardando oggi la Ternana le ultime prestazioni i fattori a cui uno guarda sono molteplici e diciamo l'idea massima li avete elencati secondo me c'è un aspetto importante è quello che Andrea Zoli appena è arrivato ha detto io credo che nel giro di un mese darò l'impronta alla squadra perché non ci vuole molto a dare poi l'impronta alla squadra ad oggi nessuno ha visto l'impronta del mister che ovviamente io non sto adesso dicendo che Andrea Zoli non è capace ad allenare però probabilmente sta utilizzando dei concetti o sta lavorando su dei principi che la squadra fatica un attimo a recepire o è mal disposto è importante questo questo è il secondo aspetto perché poi se tu vai a analizzare tutto quello che stavo detto c'è un altro aspetto la squadra psicologicamente sta a pesi sta in grande difficoltà il mister ieri è stato onesto in conferenza stampa post partita ha detto se il problema è psicologico la situazione è seria se c'è un problema di leadership che mi ricordo quando facciamo le nostre chiacchierate tu mi dicevi la cosa che dici preoccupante è che questo viene in conferenza dice i ragazzi sono professionisti assemblari si impegnano mi seguono se è vero è preoccupante questo Enrico è l'altro aspetto che sarei andato a dire nel senso che lui viene in conferenza stampa anche Lucarelli diceva sono tutti professionisti assemblari lo seguono si allenano a mille tu arrivano la domenica e non fanno nulla questo è molto preoccupante perché vuol dire che o lui sta applicando delle idee che la squadra non le recepisce o non le vuole recepire io questo non lo so o i giocatori non sono adatti ultimo penultimo aspetto importante quando vedi la Ternana oggi vedi una squadra molle la squadra fisicamente sta a pezzi perché sono d'accordo con la premessa di Agili è stata perfetta la Ternana nella prima mezz'ora si è schierata con il tre quarti sul mediano loro basso è stata in campo precisa il mister aveva detto che voleva una squadra più equilibrata la squadra è stata equilibratissima il problema è che 5 minuti del primo tempo e tutto il secondo tempo è come se non fossero scesi in campo ultimo e chiudo problema che si vede la Ternana ha perso una propria identità non ha più giocate codificate per giocate codificate intendo quelle giocate che qualsiasi giocatore qualsiasi squadra fanno quando vanno in affanno quando vanno in difficoltà mi viene in mente l'anno della C1 che tutti ricordano palla a mammarella mammarella sulla fascia di prima sulla punta scarico sfondi su partipiro esempio pratico tu ad oggi queste giocate codificate non ce le hai più sono un po' in confusione cioè l'angolo di salvezza è tutte le squadre cioè quando tu hai le giocate codificate c'è una tua identità ti senti forte e tiri fuori il meglio da tutto non ce le hai più quelle giocate perché ha cambiato completamente pelle cioè con Lucarelli giocavamo quest'anno a parte del sistema di gioco ma sostanzialmente con Favilli terminale offensivo palla lunga quella era la giocata codificata che era diventata però la giocata principale della squadra però non era efficace il problema è che quest'anno con l'arrivo di Andrazzoli in luto giochiamo con due punte quindi prima non ci abbiamo mai giocato per cui gli ha diciamo come dire anche un po' stravolto le idee secondo a Frosinone si è riandato a giocare quel 4-2-3-1 che era il marchio di fabbrica di Lucarelli il primo anno di Serie C è rimesso un'altra volta Falletti largo a sinistra cioè diciamo che offiziale è la fase di transizione tra una visione di calcio e un altro secondo me siamo in difficoltà anche per un altro motivo perché continuiamo a prendere golle come l'anno scorso e come nella prima fase del campionato molti golle soffriamo in difesa qualche partita siamo andati un po' meglio ma la difesa soffre ieri si è visto però non facciamo più golle cioè i nostri giocatori che l'anno scorso facevano golle hanno fatto la differenza perché con una squadra con una squadra più debole di quella di quest'anno l'anno scorso abbiamo fatto siamo arrivati decimi siamo stati anche sfortunati abbiamo fatto un giro di torno fantastico perché avevamo Falletti Partipilo Falletti da un certo punto non più però Partipilo Donnarumma Palumbo che facevano la differenza e quest'anno quindi continuiamo a prendere golle ma i nostri giocatori migliori che l'anno scorso hanno fatto la differenza non la facevano chiudo scuse voglio fare una proposta però perché dice che facciamo allora io un'idea ce l'avrei io farei così dico quello che farei io poi nessuno si offende ce lo dici dopo la pubblicità che mi chiamiamo il saspen pubblicità un negozio lube non è un negozio come gli altri sarà perché al primo sguardo capisci subito cosa significa essere lube sarà perché i nostri sono gli unici negozi certificati sarà perché insieme possiamo costruire passo dopo passo una storia sempre nuova scritta con passione e con l'attenzione che serve a renderla unica per questo in Italia la cucina si chiama lube Aterni in via Farini di fronte alla Coop Centro Pneumatici Maratta Pneumatici delle migliori marche ed occasione a prezzi imbattibili riparazioni sostituzione e manutenzione di pneumatici per auto veicoli commerciali autocarri e rimorchi esperienza e professionalità al tuo servizio e sempre la scelta più conveniente chiamaci per un preventivo o vieni a trovarci in via Lessini 21 a Terni telefono 0744 30 14 1424 No bambini non si può avere tutto dalla vita se no mica stavo con mamma non si può avere tutto dalla vita o perlomeno non sempre VR 4.0 full optional di serie anche termo hybrid benzina GPL è in pronta consegna Lungo la Flaminia tra Terni e Narni il ristorante Regno Verde vi aspetta per un capodanno indimenticabile con un grande cenone tanta musica dal vivo e l'immancabile spettacolo pirotecnico per festeggiare il 2023 nella magica atmosfera del Regno Verde i posti sono limitati fai subito la tua prenotazione per un capodanno da ricordare al ristorante Agriturismo Regno Verde in strada di San Faustino 26 a Narni telefono 0744 744 335 335 435 435 535 535 535 635 535 535 635 745 746 746 747 746 846 946 846 848 946 si prese tutte le responsabilità e parlava lui e non dico che sarà stato quello allora io che farei? Prenderei o un direttore sportivo o un direttore generale che può affiancare il presidente e consigliarlo e magari ci mette la faccia perché nei momenti di difficoltà adesso Andrazzoli e Vuna adesso magari ha bisogno di un direttore sportivo o di un direttore generale che gli dà una mano, in due si lavora meglio che da soli potrebbe essere una soluzione perché se tu prendi un direttore sportivo o un direttore generale molto esperto che dà una mano all'allenatore che dice l'allenatore è questo fino alla fine della stagione, che fa vedere ai giocatori che c'è in società uno che comanda, che è esperto di calcio non è colpa sua ma di calcio magari tante cose non le sa un direttore sportivo un pochino esperto le sa questa potrebbe essere una soluzione per uscire da questa posso finalmente parlare anche io? se me lo congedi, grazie io dico una cosa, io sposo la linea di Gianni che dice non spariamo sulla maniera rossa del resto mi sembra che tutto quello che dovevamo dire l'abbiamo detto in tempi anche non sospetti molto prima che scoppiassero i casini nell'immediato adesso ha ormai poco senso sposo la tua quando dici che serve un direttore sportivo che dia una mano alle a loro ok, ormai il giocattolo si è rotto mandando via senza motivo valido Lucarelli e questo l'abbiamo detto magari sul suggerimento di qualcuno che ha detto che siamo da primi due posti siccome qualcuno ha detto che siamo da primi due posti da primi due posti non siamo anzi, adesso stiamo tenendo una media retrocessione quindi ha detta una sciocchezza anche questa persona va ringraziata per quello fatto fino adesso, sostituita è stato sostituito Lucarelli, si può sostituire anche Leone non vedo questo scadlo anche perché in questo punto è assente oggi non ci stavo a vedere gli allenamenti mi risulta ci vanno anche quelli della curva l'ho detto questo io dico ci vuole uno tipo Sabatini Walter Sabatini no perché secondo me ha sbagliato tanto chi comanda Presidente, Leone che però deve mettere i soldi non deve capire di calcio oddio io un maschio italiano che non sa niente di pallone per me è un problema perché non è normale a casa mia ma magari qualcosa sa detto questo detto questo è la mia considerazione personale qualcosa sa io dico qualcosa saprà però secondo me la cosa fatta con Lucarelli è stata una grande cavolata sciocchezza grossa e da lì nascono tutti i risultati negativi che sono seguiti qualcuno buona parte un direttore sportivo alla Valte Sabatini sarebbe andato Giulio Spogliato ragazzi l'allenatore è questo chi non gli sta bene chi non gli sta bene me lo dite a gennaio vi trovo un'altra squadra spiantatela del Remagogo come ha fatto l'Atalanta con Gasperini che ripeto qui io avrei fatto guarda l'officiale il paramico su un po' si mischia che però ci sia un po' di maretta nello spogliatoio lo sanno anche i salsi perché non è che stiamo dicendo chissà quale è verità detto questo adesso a maggior ragione serve una persona come questa perché il giocatore adesso è proprio rotto non si sta rompendo è rotto serve operare pesantemente secondo me sul mercato non solo per rinforzare la squadra ma anche per cambiare determinate dinamiche di alcuni giocatori che poi eventualmente sa sistemare la rossa razionalizzare la rossa la ternana gli sta stretta o gli sta larga scegliete voi però qualcosa va cambiato perché se no questo trend è pessimo ti posso stavo dicendo una cosa ma io scusate al volo perché avete detto una cosa che poi avrei voluto un attimo dire più tardi ieri sera vedendo i vari gol perché il calcio è una malattia quindi stavo vedendo mi sono trovato l'intervista di Castori e gli hanno detto gli hanno chiesto al mister che cosa è cambiato rispetto alla prima gestione lui ha detto chiaramente io sono una persona scomoda sono scomoda all'interno dello spogliatoio perché i miei allenamenti vanno dalle due ore e mezza alle tre ore durante i miei allenamenti si fatica i giocatori sulla prima parte non mi hanno seguito non mi hanno appoggiato e il presidente l'ha fatto fuori quando sono tornato lui ha preteso carta bianca quindi esatto stavo venendo a quello che stavate dicendo voi lui ha preteso carta bianca quindi non so chi sia stato sono andati dentro lo spogliatoio e hanno detto questo è l'allenatore e non si cambia fate quello che dice lui che dice lui quindi ad oggi ha detto che i miei allenamenti continuano a durare tre ore continuano a faticare più di prima però venendo i risultati si allenano con più voglia quindi vuol dire che legittimare o delegittimare un allenatore fa tutta la differenza del mondo esatto volevo venire a quello di... scusa questa potrebbe essere una soluzione prima abbiamo detto no tutti i professionisti si allenano poi la domenica non rendono è il fatto delle ipotesi dice o o invece te ne metto una terza di poi ma non è che la percezione sia proprio completamente sbagliata perché se tu mi vieni dopo il 3 a 0 preso a Frosinone a dirmi che abbiamo fatto le stesse identiche cose i stessi numeri che ha fatto il Frosinone secondo me c'è una percezione un attimino fuori sincrono ecco voglio essere proprio delicato stasera prego allora quello che diceva lui di Castori ti posso dire hai sentito la conferenza di Andrea Zori poste partita ho sentito l'ho scritto anche su Umbria ma certo assolutamente però anche lì dipende diciamo dai personaggi ma quello che diceva Alessandro sul discorso di Castori ti posso assicurare da fonte certissima che è la stessa cosa per Lucarelli cioè nel senso che il mister era il punto di riferimento l'equilibratore di tutta una serie di situazioni all'interno della Ternana era proprio il punto di incontro che teneva in piedi un equilibrio sottilissimo dentro la Ternana ok rimaniamo sull'officiale nel momento in cui tu decidi di come dire aprire la gabbietta dello spumante quella lì e dopo te lo devi aspettare che il tappo prima o poi vi ricordate ve l'ho detto subito allora scusa il mister era la gabbietta della bottiglia di spumante capito allora a questo punto quando giustamente Alessandro parla di Castori Castori che ha fatto ha messo fuori Rosa appena Angela e Rosi allora rimaniamo sull'officiale va bene ma io mica sto facendo faccio una considerazione di dire Lucarelli è un allenatore che usa tanto bastone molto più bastone della carota allora mi sembrava anche però che ha tirato fuori il massimo da quello che c'era a disposizione e chi ha venduto cose diverse se tu parli della conferenza l'hai sentita la conferenza di Andriazzoli prima della partita di Frosinone ha detto ho usato troppo bastone quando ha criticato la prestazione ha detto ridicoli quindi già si sono fatti capire dopo Como ha detto Andriazzoli la squadra è stata ridicola qui la linea tra ufficiale e paramico ha detto la squadra è stata ridicola dopo Como poi ha detto invece in conferenza stampa per Frosinone beh ho usato un termine ho usato un termine eccessivo in realtà è forse meglio usare un pochino di Carlo era giusto però benissimo però io sposo quello che dice Alessandro penso allo stesso modo Castori lo sapete se fosse per me Castori lo tenevo un bullonato per quanto l'abbiamo detto l'abbiamo detto tante volte abbiamo pure sbagliato però ecco il discorso ci abbiamo messo di riprenderlo ci dovevamo tutti fare no ragazzi cioè bisogna a questo punto secondo me poi me la chiuda veloce eleviamoci perché qui la dobbiamo portare in porto questa stagione senti paramicos paramicos questa è solo questa io l'ho detto subito se vi ricordate avendo visto tanti spogliatoi purtroppo perché c'è una certa età che quando si accontende lo spogliatoio non sempre le cose poi vanno bene che poi quando si accontende una volta lo spogliatoio se è vero se è vero che non lo so però non è sempre la migliore soluzione in qualche caso è la migliore soluzione ma spesso no perché poi dopo quando lo spogliato pensa di poter fare come gli pare per dire questo è una mia idea quando il mister post è giusto quello che dice Gianni è una cosa a cui io ho ragionato molto perché quando Andrea Zoli post frosinone fa i complimenti al frosinone e ti dice i problemi nostri spero che non sia psicologico e usa la parola leadership leadership è una parola che nel calcio ha un gran significato che vorrebbe dire che non abbiamo i giocatori e la domanda che mi pongo io era forse Lucarelli la leadership di quella squadra di quel gruppo era lui che faceva la parafulmine per tutta la situazione quindi è andato via lui a questo punto adesso tu chi c'hai di leader? C'è Di Dacchio che è leader silenzioso hai perso Capuano Sorensen no? Cioè tu non c'hai al momento leader comunque è vero ti appoggiavi a Palumbo ti appoggiavi a Partipi ma oggi le giocate non vengono più e la squadra sta scusa mi hai fatto ricordare che Lucarelli spesso spesso è successo più di una volta che lo abbiamo sentito poi all'epoca non c'era pubblico che si sentiva era l'unico che andava a dire ai giocatori avversari attento che vengo là e ti metto la panchina per cappello cosa che i nostri non dicono mai quindi potrebbe essere poi dico così un'idea quando ti salvi con Longarini il giocatore più importante che tu hai preso è stato Cristian Ledesma e contro la spalla fece un errore gravissimo andammo sotto subito la leadership è lui che ha continuato a testa alta arbitrava lui andò a prendere palla andò a parlare con l'app andò a parlare con i giocatori a un certo punto quando hai detto la partita di là è finita è stata in serie A cioè nel senso quella è la leadership la leadership non la puoi avere da un agazzi da un culibali da un cassata guarda il rispetto del gioco io sto parlando di leadership non sto parlando di calciatori però quando è tanto quanto è tanto forte la leadership come nel caso di Lucarelli è un po' un elefante nella stanza di cristallo capito cioè è talmente forte che poi come dire fa ombra allora è un'ombra che a volte è piacevole perché quando è stato in temperatura di 40 gradi l'ombra ti fa piacere ti mette all'ombra stai lì e stai tranquillo se Lucarelli era un elefante il presidente è un mammut insomma la voglia capocciata però magari nei momenti di difficoltà Lucarelli può darsi noi non lo sappiamo sia riuscito che ne so a scuotere la squadra perché ce l'abbiamo avuto in momenti difficili certo ma infatti e ti dico che Di Dacchio che secondo me è l'unico che ci potrebbe tu guarda caso col Como a parte ha sbagliato secondo me a toglierlo dopo il primo tempo qualcuno dice che ha giocato male ancora non si è capito ma perché era munito sì vabbè era stato munito anche Proietti stavolta non ha levato cioè secondo me lì ha sbagliato tanto comunque infatti è vero che col Como il secondo tempo non l'ha giocato abbiamo fatto non diciamo ridere ma insomma praterie clamorose nella ripresa è uguale col Frosinone non gioca Di Dacchio prendi il secondo gol come li prendevamo l'anno scorso con gente che si schivola dentro l'area non contrasta col Pisa non giocava Di Dacchio uguale Beruato stoppa la palla all'inizio dell'area solissimo cioè ho visto Favilli assegnato si è ripreso no Favilli Sibilli scusi ah sì si è ripreso stai contento vabbè sì adesso è guarito vabbè mi dicono che devo andare in pubblicità fine prima parte ci vediamo non capisco Favilli se mi stai a piedi in giro Sibilli no non capisco